Conai è vicino alle aziende che scelgono imballaggi sempre più ecosostenibili e che puntano a utilizzare materiali riciclati, a facilitare le attività di riciclo o a ridurre l'impiego di materie prime, a ottimizzare la logistica o ancora a semplificare l'imballo o renderlo riutilizzabile. Per loro Conai ha sviluppato un tool che misura gli interventi di prevenzione sugli imballi in termini di emissioni di CO2, utilizzo di energia e di acqua. Per orientarti verso un futuro più sostenibile, visita ecotoolconai.org o scrivi a ipec-conai.org